Musica Tragedia sul lavoro a Pieve di Soligo in un'azienda di surgelati, la Boccon, una 26enne, rimane schiacciata da un macchinario e vanno i tentativi di salvarla sul posto Spisa, le Carabinieri. Musica Vi prego tornate all'appello congiunto da parte dei genitori di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due 22 anni scomparsi da sabato, parla il papà del ragazzo, in questi giorni era del tutto normale. Ricerca ancora senza esiti, vigili del fuoco, setaccio nel Brenta e i suoi canali, controlli tra il Cansiglio e Dobbiaco, nel belunese l'auto di Filippo rilevata in movimento sull'Alemagna. Furti in abitazione, interviene il prefetto Sidoti, controlli straordinari in corso, dice, intanto sei ladri tentano il colpo alla cooperativa alternativa Ambiente di Carbonera, immortalati dalle telecamere. Tasse aumenta l'addizionale IPEF comunale a Treviso, l'ha annunciato oggi il sindaco Mario Conte, era l'unica strada per mettere in sicurezza il bilancio e garantire i servizi, dice. Sicurezza stradale sono riprese questa mattina con 200 studenti del liceo Duca degli Abuzzi, le lezioni della provincia con le scuole superiori per prevenire gli incidenti, l'impietoso quadro dell'Istat. Il rugby, sabato il Benettoni in trasferte in scossa con un record ormai finora imbattuto dopo quattro giornate di campionato, un ottimo momento come conferma l'estremo sudafricano Rino Smith. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli li avete sentiti, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera e che riguarda lo sciopero indetto per il 17 contro la manovra. Secondo voi è giusto? Se volete rispondere sì, lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece non volete rispondere no in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring che da questa settimana inizia alle 21. Ed ora la cronaca. Tragedia nel tardo pomeriggio a Pieve di Soligo. Una giovane 26enne è rimasta schiacciata sotto un macchinario l'ennesimo infortunio sul lavoro mortale. La ragazza, 26 anni, di origine albanesi, stava lavorando nei pressi di un macchinario all'interno di un'azienda che si occupa della commercializzazione di surgelati, la Bocondi via Montello a Pieve di Soligo. A un tratto, per motivi da accertare, è rimasta incastrata negli ingranaggi dell'apparecchiatura all'altezza del capo. Nulla da fare per la giovane lavoratrice, soccorsa dai dipendenti che hanno subito allertato gli operatori del 118. Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 16. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM con un'ambulanza e con l'elicottero. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici del nucleo Spisal che dovranno cercare di ricostruire la dinamica del grave fatto. La morte di una giovane donna a Pieve di Soligo è l'ennesima tragedia sul lavoro che colpisce la marca trevigiana e le nostre comunità, dichiara Giovanni Zorzi, segretario provinciale PD Treviso. A livello regionale chiediamo se attivi quanto prima un osservatorio sulla sicurezza con il coinvolgimento di istituzioni e parti sociali per contrastare un fenomeno che in Veneto e nella nostra provincia ha raggiunto livelli inaccettabili. È preoccupante leggere quotidianamente di incidenti sul lavoro quando dovrebbe essere il posto più sicuro del mondo dopo casa propria. Qualcosa non va e bisogna assolutamente rivedere e aggiornare, se necessario, i protocolli di sicurezza gli ha fatto ecco Gianluca Fraioli, coordinatore della Will Veneto Treviso. Ed ora la vicenda dei due 22 anni scomparsi da sabato sera. Vi prego tornate. È l'appello congiunto da parte dei genitori di Giulia e Filippo e poi ancora chiunque li vedesse o vedesse l'auto chiami il 112 o i numeri che sono stati diramati. L'appello che facciamo è chiaramente quello ai ragazzi di contattarci o di tornare spontaneamente, non sappiamo dove siano esattamente e chi li vede di contattare o le forze dell'ordine il 112 o comunque i numeri che sono girati. L'auto è sempre la Fiat Punto nera targata FA015YE. Che si faccia sentire, perché si faccia sentire, ci dia notizie di lui e della Giulia. Siamo preoccupati e vorremmo che ci contattasse. Qualsiasi cosa sia successa, noi lo aspettiamo, gli vogliamo bene, vogliamo bene lui e la Giulia e che ritornino. Vi prego tornate. Abbiamo il giulino a casa per questo. Qualsiasi cosa sia successa, siamo qua. È un appello congiunto, disperato, quello dei genitori dei due 22 anni di cui non si hanno più notizie da sabato sera. Si sono ritrovati nella casa di Giulia, in via Aldomoro a Vigonovo, il papagino, insieme a Nicola ed Elisabetta, i genitori di Filippo. Uniti nell'angoscia di queste estenuanti ore d'attesa, sussultando a ogni squillo del telefono, ma anche nella speranza che i loro figli rientrino a casa sani e salvi. Per questo hanno trovato la forza di lanciare un appello davanti alle telecamere, ai loro figli e a chiunque possa essere d'aiuto, fornendo quanti più dettagli possibile. Giulia è alto 1,63 m, ha i capelli castani con frangetta, porto maglione azzurro, una gonna marrone corta a tubino, calze, scarpe a mocassino nere e un giubbotto capotto nero. Filippo è alto 1,88 m, ha i capelli castano scuro. Un paio di jeans chiare con l'elastico alla casiglia, delle scarpe bianche color panda dell'Adidas con un inserto dietro arancione, poi aveva un giubbino nero corto in vita di tessuto tecnico impermeabile e col cappuccio. E' un appello anche ai telespettatori che se vedono una grande Fiat Punto targata FA 015YE, che ha anche delle ammaccature nel cofano della macchina dovute alla grandine, di contattare le 112. Poi la mamma aggiunge. L'ultimo giorno che l'abbiamo visto era tranquillo. E tranquilla era anche Giulia, almeno fino alle 22.45 di sabato, quando si è scambiata alcuni messaggi Whatsapp con la sorella Elena sulle scarpe da indossare probabilmente il giorno della sua imminente laurea. Quello che si è accaduto dopo i carabinieri stanno cercando di ricostruirlo passo dopo passo. Dalle ore trascorse nel centro commerciale di Marghera al testimone che dice di aver sentito una discussione nel parcheggio poco distante la casa di Giulia, verso le 23.15. Poi le chiazze di sangue nella zona industriale di Fossò, dove verso le 23.30 le telecamere hanno registrato il passaggio dell'auto. E ancora le altre zone oltre la provincia. Tra Veneto e Friuli, il Trevigiano, il Bellunese. E mentre continuano le ricerche a 360 gradi, anche nella zona del Cansiglio, proprio la scorsa notte, la targa dell'auto sarebbe stata letta dal rilevatore elettronico nell'Alto Bellunese, confermando che si stava dunque ancora muovendo. Poi nuove ricerche lungo la riviera del Brenta. Le ricerche dei vigili del fuoco si stanno concentrando anche lungo il naviglio tra Dolo e Stra, proprio nelle prime ore del pomeriggio. abbiamo visto l'elicottero sorvolare la zona. Ma nel corso della mattinata, su richiesta dei carabinieri, hanno effettuato verifiche anche lungo gli argini con l'utilizzo del gommone. Ricerche che però hanno dato esito negativo. Quindi le squadre sono rientrate. Le parole anche della zia di Giulia per convincere i ragazzi a tornare a casa. Se da lei ha fatto un appello nei confronti... Mi sento circondata. Sto andando a casa, sto andando dai miei genitori, che sono molto anziani e hanno bisogno del nostro sostegno. Quindi grazie per quello che state facendo. Gli appelli li abbiamo già fatti. e continuate a riproporli. Aspettiamo i ragazzi. Siamo molto fiduciosi nelle ricerche di tutte le istituzioni a questo punto. Chiediamo l'aiuto di tutti i cittadini che potessero in qualche modo vedere questi ragazzi, di non temere di fare alcuna segnalazione e quindi di aiutarci a trovarli. A Filippo e a Giulia, se ci stanno ascoltando, se ci sentono, chiediamo di contattare i genitori di Filippo oppure mio cognato. Noi ce li andiamo a prendere, di non aver paura, che comunque noi li stiamo aspettando e abbiamo tanta voglia di riabbracciarli. Qualsiasi cosa è successo, non è successo niente. Siamo pronti ad aiutarli. Grazie. Arrivederci. Grazie. Sono giorni complicati per varie comunità, ma siamo fiduciosi che tornino a presto, a dirlo è il sindaco di Vigo Novo, Luca Martello. Sono due ragazzi dei nostri, davvero ragazzi che studiano, che hanno fatto percorsi di studi importanti e quindi sicuramente ci fa pensare che ciò che è avvenuto non fosse prevedibile. Questo da un lato un po' ci preoccupa, ma speriamo davvero di poter contare su dei ragazzi che davvero si siano imbattuti in qualcosa che avrà un lieto fine, che possa finire presto. Siamo fiduciosi e soprattutto impegnati in qualsiasi modo per dare un contributo che sia utile davvero e che non complichi al contrario il lavoro di queste ore che è tutt'altro che semplice. E si sono concentrate anche nel Bosco del Cansiglio le ricerche dell'auto con i due giovani scomparsi, una ricerca resa difficile da alberi e arbusti. Il Bosco del Cansiglio è una delle zone in cui si stanno intensificando le ricerche per ritrovare Filippo e Giulia, ma soprattutto l'auto di Filippo, che gli elicotteri non sono riusciti a individuare, ma come vedete il Bosco del Cansiglio significa anche luoghi impervi con alberi e arbusti a nascondere quello che c'è al di sotto. Tra Polcenigo e Caneva, quindi tra le province di Treviso e di Pordenone, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, nelle ultime ore si sono concentrate le ricerche. Tutto sarebbe legato al Targa System, le telecamere posizionate all'ingresso e all'uscita di molti comuni che interrogate sul numero di Targa indicano se l'auto corrispondente è transitata in quel luogo e da quanto trapela l'auto sarebbe effettivamente transitata. Al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, tra le province di Treviso e Pordenone, più precisamente tra Caneva e Polcenigo, ai piedi del Bosco del Cansiglio. Un luogo impervio, con molte strade poco asfaltate, stradine sterrate che si arrampicano in mezzo al bosco e lì nascondere un'auto tra alberi e arbusti non è difficile e neanche renderla invisibile a chi guarda dall'alto come è accaduto con l'elicottero regionale dei Vigili del Fuoco. Stradine tra l'alto lungo le quali noi stessi, che ci siamo spinti per alcuni chilometri verso il bosco, non abbiamo incontrato anima viva, né auto né persone a piedi e le poche case presenti sono isolate. Nel corso della giornata poi è arrivata la notizia di un avvistamento dell'auto in movimento nell'Alto Bellunese e allora le ricerche si sono concentrate anche lì e la corsa contro il tempo per ritrovare i due ragazzi continua. Parlano ai nostri microfoni il dirigente della squadra di pallavolo dove giocava Filippo Turetta ed il suo amico, ecco il loro appello. Qualsiasi cosa sia successo che torni indietro, che noi li vogliamo bene, noi della squadra sicuramente e credo anche alla famiglia tutti gli altri. Mi scusi ma mi sto commotendo perché è come un figlio. Fa fatica a trattenere la commozione Gennaro Zecchino, dirigente della Libertas Volley, la squadra di pallavolo di Torreglia dove Filippo Turetta aveva militato fino a settembre del 2022. Anche lui, come tutte le persone che vogliono bene al 22enne, sta vivendo momenti di apprezzione in questi giorni. Il suo è un messaggio a cuore aperto per Filippo, un ragazzo educato e rispettoso fuori e dentro il campo di volley. Non è mai stato assente così per caso. Se era assente era perché c'era qualche problema vero. Come Gennaro Zecchino, anche Luca, amico d'infanzia, spera in un ritorno a casa di Filippo con Giulia. Nel comportamento del giovane con gli amici niente lasciava trasparire alla volontà di un allontanamento. L'ho visto l'ultima volta, circa tre settimane fa, alla mia festa di laurea. Appunto era venuto anche lui e insomma mi è sembrato normale, come sempre. Era sorridente, scherzoso. Filippo, appassionato di trekking, conosceva bene i colliugani e qui che ieri lo hanno cercato i genitori e poi le dolomiti. Non frequentava invece la zona del Cansiglio, dove oggi si sono concentrate le ricerche dopo gli alert delle targhe. La storia con Giulia, conosciuta all'università, era durata circa un anno. C'era rimasto parecchio male, si erano lasciati nel periodo di agosto. Insomma, sia io che dei nostri amici, comunque avevamo cercato di consolarlo, di stargli vicino e sembrava un po' che avesse passato questo brutto periodo, che si fosse un po' ripreso. Ora Filippo stava studiando per gli ultimi tre esami del corso di ingegneria biomedica. Il rapporto con Giulia sembrava essere rimasto amichevole fino all'appuntamento di sabato sera e la scomparsa. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata a due 22 anni scomparsi. Andiamo avanti con la cronaca. Un commerciante su due si dice preoccupato del fenomeno della microcriminalità, in particolare delle bande di giovani molesti, a dirlo lo studio dell'ASCOM, presentato questa mattina alla presenza del prefetto che si è soffermato sui furti in abitazione, unico reato in aumento. Controlli straordinari in corso ha rassicurato Sidotti. Già dallo scorso mese di settembre l'intensificazione dei controlli del territorio per scoraggiare questo tipo di reato che torna a dire è l'unico reato che potrebbe essere in aumento e da verificare questo, il rispetto a tutte le altre situazioni è quello a cui dobbiamo dedicare maggiore attenzione. E le forze di polizia lo fanno quotidianamente con i propri servizi ordinari e straordinari. E il contrasto ai furti in abitazione la priorità di questo preciso momento storico in provincia di Treviso e a ribadirlo è il prefetto nel giorno in cui ASCOM presenta il proprio studio sulla percezione della microcriminalità. Presenti quest'ora i vertici dell'arma e della finanza, sullo sfondo i continui raid ladreschi che nel fine settimana hanno interessato in particolare Ponzano e poi Vildorba e Maserada. È sempre stato nel corso degli anni il periodo invernale quando cambia l'orario e fa buio prima, diciamo così per semplificare, che assistiamo alla recrudescenza di furti. La statistica la faremo a fine anno per vedere se nelle serie storiche quest'anno è stato peggiore degli altri nel senso dell'aumento di questo tipo di reato. I conti quindi si faranno alla fine dell'anno. Intanto, stando allo studio ASCOM, un commerciante su due si dice preoccupato dalla microcriminalità, anche se non vede rischi immediati. Il 12% è invece molto preoccupato e questo in un territorio che resta nella top 10 dei più sicuri in Italia. In cima alla lista, più che scippi e taccheggi, c'è la prensione per il fenomeno dei giovani molesti e del vandalismo, insomma le cosiddette baby gang. Sul punto però si doti non a dubbi. Ma è un sentiment. Noi dobbiamo andare a vedere le statistiche ufficiali e queste in particolare nella nostra provincia sono in diminuzione. Quindi soltanto l'aggregazione di ragazzi non può essere immaginata come un fatto di criminalità. Ladri ancora in azione nella marca. La scorsa notte sei malviventi hanno tentato di entrare nella sede della cooperativa alternativa usando prima un piede di porco, poi anche gli attrezzi e gli arreddi esterni della stessa cooperativa. A denunciare l'accaduto il presidente Mario Toffoli con un post su Facebook. Non sono riusciti ad entrare e anche se l'avessero fatto non avrebbero trovato nulla da rubare. Ma se hanno bisogno di denaro abbiamo lavoro anche per loro afferma Toffoli. Abbiamo trasmesso le foto più definite ai carabinieri assieme alla denuncia ma volevamo condividere con voi questo spiacevole incidente di percorso senza violare la privacy di chi ha violato la nostra cooperativa. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Tasse aumenta l'addizionale IRPEF comunale a Treviso. L'ha annunciato oggi il sindaco Mario Conte. Era l'unica strada per mettere in sicurezza il bilancio e garantire i servizi. Dice si amplia però la fascia dell'esenzione. Un sindaco non lo vorrebbe mai ma mettere la mano nelle tasche dei nostri cittadini attraverso l'aliquota IRPEF è certamente qualcosa che non vorremmo mai fare ma questo ci consente di sostenere le famiglie. Quindi abbiamo lavorato tanto con la maggioranza, con la giunta e devo dire che nonostante i sacrifici che siamo chiamati a fare io esprimo davvero grande soddisfazione perché mettere in sicurezza da un punto di vista sociale la comunità è comunque un grande risultato politico-amministrativo. L'alternativa era quella di tagliare sui servizi che invece dice il sindaco non si toccano e quindi nel 2024 resteranno invariati i contributi alle paritarie il costo degli spazi pubblici l'assistenza agli anziani. La storia di Casugana è quella di tanti fa intendere Conte. Esattamente come le famiglie c'è stata un'esplosione dei costi ma è giusto per i miei cittadini quantificare anche questa esplosione dei costi che per un bilancio da 80 milioni vale 8 milioni in più di costi. Un elenco lungo una tempesta perfetta l'espressione usata dall'assessore Riccardo Barbisana che entra nel dettaglio delle nuove aliquote. E noi andremo con un'aliquota unica dello 0,8 per tutti i redditi superiori ai 16 mila euro lordi all'anno. Parliamo per un reddito di 25 mila euro lordi all'anno di circa 40 euro all'anno e per i redditi superiori però qui è veramente per redditi oltre i 50 mila euro all'anno arriviamo al massimo a 70 euro annui. Si amplia però la fascia dell'esenzione. Precedentemente si pagava l'addizionale IRPEF comunale per i redditi superiori ai 15 mila oggi solo per i redditi superiori ai 16. Sullo sfondo Italia i trasferimenti agli enti locali preannunciati dal governo anche qui una storia che si ripete con un braccio di ferro già in corso tra esecutivo e Anci in Veneto guidata proprio da Conte. La coperta diventa corta per tutti noi ovviamente continuiamo a fare i nostri appelli le nostre richieste a questo governo chiediamo di continuare a sostenere e a credere nella bontà amministrativa dei comuni consapevoli che il periodo è difficile per tutti. Il questore di Treviso Manuela De Bernardin ha nuovamente disposto la sospensione della licenza del locale Angel Bar di Treviso è stata imposta una nuova chiusura del locale per un periodo di 30 giorni dall'adozione della misura di sospensione si è resa necessaria dopo la lite tra due avventori del locale sfociata poi in una violenta aggressione perpetrata anche con l'utilizzo di un bicchiere di vetro rotto l'episodio su cui sono tuttora in corso le indagini da parte dei poliziotti della squadra mobile. Il provvedimento aggiungono dalla questura è stato emanato dal momento che il locale continua ad essere oggetto di frequentazione da parte di soggetti dediti alla commissione di reati e gravati da numerosi precedenti penali e di polizia. Ed ora invece siamo all'economia ai dati del trimestre la fiducia tra le imprese è calata ma a fine anno potrebbe esserci un'inversione di tendenza complice la frenata dell'inflazione buone le prospettive per il Black Friday e Natale afferma Dania Sartorato. Era una stagnazione purtroppo attesa è anche vero che l'inflazione sta rientrando e che quindi già dai prossimi mesi è prevedibile un ritorno alla capacità di acquisto dei redditi. La fiducia tra le imprese è diminuita man mano che l'inflazione è aumentata ed è per questo che con il raffreddamento dei prezzi previsto per fine anno potrebbe esserci una nuova inversione di tendenza complici due grossi appuntamenti per il commercio. Le attese sono buone sia per la settimana diciamo del Black Friday che è sempre un'ottima opportunità di promozione ben vista dalla clientela e anche per le festività di Natale un po' come momento di aggregazione di ritrovo e anche di premialità Un quadro in chiaroscuro quindi qui si aggiunge un altro tassello solo il 35% delle aziende trevigiane ha fatto richiesta di credito per investire meno dei trimestri precedenti ma il dato va contestualizzato Il 35% è un dato confortante il fatto che la media nazionale è 10 punti più bassa significa che le nostre aziende guardano ancora al futuro facendo investimenti nuovi nonostante oggi non ci sia ancora molta visibilità su quelle che sono le manovre fiscali da parte dello Stato noi vediamo che le nostre imprese quelle più virtuose guardano il futuro L'altro termometro è costituito dal mercato del lavoro nel terziario dove resta la carenza cronica di manodopera Si cercano figure specializzate c'è molta domanda in tutti i settori in generale ma comunque anche per quello che ci riguarda sono ricercati i banconieri i baristi personale di accoglienza i panettieri ci sono alcune figure che sono più ricercate Sicurezza stradale sono riprese questa mattina con 200 studenti del liceo Duca degli Abruzzo e le lezioni della provincia di Treviso con le scuole superiori per prevenire gli incidenti già 44 quelli mortali nella marca da inizio anno Nel 2022 in Veneto si sono verificati 13.220 incidenti stradali che hanno causato la morte di 321 persone e il ferimento di altre 17.286 Secondo i dati Istat rispetto al 2021 aumentano i sinistri del 6,6% i feriti del 4,7% ma la variazione maggiore si riscontra per le vittime più 12,6% Stando all'analisi del centro di monitoraggio incidenti stradali della provincia sono 44 i sinistri mortali con 51 vittime da inizio anno ad oggi nella marca Fermare questa strage è l'obiettivo di tutti i soggetti coinvolti tra cui la stessa provincia che da 20 anni organizza per le scuole superiori lezioni di educazione stradale Ecco qua ci fermiamo ragazzi l'incidente classico a velocità urbana lo scooter non andava più di 40 l'ora l'auto 50-60 l'ora massica E' un format che lavora sulla psicologia dei ragazzi con immagini forti e sulla renderli consapevoli di alcuni comportamenti che possono essere utili a loro stessi piuttosto che a terzi Spesso sono proprio i comportamenti sbagliati alla guida all'origine degli incidenti tra i giovani la distrazione per l'uso del cellulare o eccessi di velocità tra chi invece alla patente da anni si registrano difficoltà in determinate circostanze come nell'affrontare le rotatorie Potrebbe essere un'idea quella di arrivare a una sorta di revisione della patente potrebbe essere rende tutti più consapevoli all'evoluzione del codice della strada e ai nuovi sistemi per esempio dei mezzi Si lavora la prevenzione su due livelli con la giusta informazione e intervenendo sulle infrastrutture i limiti e le regole ci sono continua Marcon stiamo intervenendo per rendere le strade più sicure e qui si apre un altro capitolo legato alle risorse sempre più limitate degli enti Se continuerà questo impianto di finanziaria ci troveremo a non avere le risorse per fare la manutenzione ordinaria e conseguentemente andremo in situazioni di straordinarietà che hanno la beffa di essere più costose Cambiamenti climatici che rischiano di far sparire i prodotti tipici del nostro territorio come il radicchio di Treviso e l'allarme di Cia Veneto Probabilmente nel lungo termine l'aumento della temperatura potrebbe creare il fatto che non ci sarà più il radicchio di Treviso Sicità nubi fragili autunno con temperature più simili alla primavera cambiamenti climatici che stanno incidendo pesantemente sulle colture di stagione in alcune zone del Veneto si calcola un 10-15% in meno di produzioni come cereali e viticoltura in ritardo il radicchio di Treviso anche questa tipicità condizionata da un freddo che tarda ad arrivare Necessita del freddo per essere per avere la sua capacità organolettica poi importante come attività e guardi sul radicchio di Treviso va fatto una grossa applauso ai nostri agricoltori che con passione e con determinazione lo stanno coltivando e lo stanno anche proponendo delle tavole ma soprattutto per la valorizzazione del radicchio stesso cambiamenti climatici che necessariamente porteranno nei prossimi anni a rivedere le colture stagionali finora tipiche del nostro territorio potremmo parlare anche del settore delle vitivinicolo del settore della flutticoltura e anche delle colture orticole quindi avremo anche un cambiamento anche della tipicità dei nostri prodotti e dovremo sicuramente in questi anni fare una valutazione molto attenta per quanto riguarda la questione idrica e quindi anche su questo avremo necessità di fare tutti quegli investimenti per dare la possibilità alle nostre aziende di fare irrigazione Produzioni d'eccellenza minacciate dalle condizioni meteorologiche ma spesso anche copiate all'estero per questo sottolinei Antonini sono necessarie regole chiare a livello europeo e se noi abbiamo dei prodotti DOP o IGP come quella radicchio di Treviso devono essere valorizzati non devono essere copiati se noi cerchiamo di avere di avere un elemento importante una politica che va in questo senso difendiamo i nostri prodotti ma difendiamo anche i nostri agricoltori ed ora lo sport con il rugby sabato il Benetton sarà in trasferta in Scozia con un record mai finora imbattuto dopo quattro giornate di campionato un ottimo momento come conferma ai nostri microfoni l'estremo sudafricano Rino Smith è un Benetton rugby da record per la prima volta nella sua storia di partecipazione allo URC lo United Championship che unisce formazioni gallesi scolzesi irlandesi e le due italiane i trevigiani sono senza sconfitte dopo quattro turni tre vittorie e un pareggio e già affrontati i campioni e i vice campioni dello scorso anno gli irlandesi del master e gli stormers sudafricani soddisfazioni è la parola chiave secondo me ci sarà sempre qualcosa a migliorare ma dopo quattro partite siamo contenti ora treviso al quarto posto in coabitazione con Alster e Connacht e il quinto tutto esaurito dello stadio Monigo fa capire quanto il sostegno del pubblico sia determinante campionato molto lungo non importa come si prende punti ma importa che si prende punti e alla fine ora abbiamo fatto così abbiamo preso punti ogni partita e quella è la cosa più importante pubblico in delirio per il drop del sudafricano Rino Smith un calcio da metà campo che ha fissato il 13 a 10 all'intervallo un drop calciato distinto ma anche preparato lucidamente 50-50 l'instintivo è anche tipo pre-preventivo si dice? sì il sabato altra prova difficile in trasferta in scozia a Glasgow terza in classifica con un punto in più del Benetton l'allenatore poi è Franco Smith attreviso dal 2007 al 2013 e poi CT dell'Italia loro hanno loro punti di forza è sempre molto importante per loro e sarà molto importante questa settimana firmarli l'altra cosa ovviamente loro piacciono giocare larga e larga per quello dobbiamo essere pronti sempre e ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia in primo piano la cronaca ha ritrovato il corpo del cacciatore disperso da sabato il 65enne è stato localizzato sul fondale del Piave circa ad un chilometro da Praloran le ultime speranze di ritrovare ancora in vita Doriano Gasperin si sono spente questa mattina quando durante un sorvolo del Piave nel territorio comunale di Limana l'elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Venezia ha individuato il corpo del 65enne in un'ansa del fiume a circa un chilometro dalla frazione di Praloran il recupero è stato eseguito dai sommozzatori del nucleo regionale del Veneto e i soccorritori fluviali del comando provinciale di Belluno Doriano Gasperin che qui vediamo nelle nostre immagini di repertorio girate una decina d'anni fa durante una mattinata di attività didattica dei cacciatori della locale riserva era uscito nel pomeriggio di sabato scorso con la sua attrezzatura l'intenzione era quella di assentarsi brevemente a rafforzare queste ipotesi il fatto che il suo fuoristrada sia stato trovato aperto e con tutti gli effetti personali all'interno nell'area della cava di Praloran l'incidente probabilmente di lì a poco verso sera la denuncia di scomparsa e l'attivazione del dispositivo per la ricerca persone che ha fatto convergere nella zona rivierasca di Limana vigili del fuoco soccorso alpino e guardia di finanza da lì in poi oltre un'ottantina di soccorritori si sono alternati per due giorni e mezzo per cercare di individuare una traccia del 65enne anche con l'ausilio di unità cinofile molecolari nell'area disegnata dall'ultima cella telefonica agganciata dal cellulare dell'uomo ieri le ricerche si erano concentrate nel tratto che va da Ponte San Felice allo sbocco del torrente Turriga e da Ponte San Felice al Cordevole la svolta questa mattina la salma di Doriano Gasperin è stata identificata dal medico legale e terminate le procedure di rito è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Belluno non è bastata l'aggiudicazione della gara per la gestione in concessione degli impianti del Nevegal a diradare le nubi a tinte fosche che puntualmente ogni anno si affolano sul colle alla vigilia dell'avvio della stagione invernale l'assessore Roccon il momento è importante e delicato a mandare in fibrillazione gli affezionati sciatori del colle è stato questo avviso pubblicato nella home page del sito di Nevegal 2021 causa motivi tecnici e momentaneamente è sospeso l'acquisto degli ski pass un problema del sito in relazione alla gestione degli introiti tramite paypal ci ha detto il presidente onorario Massimo Slaviero ma l'affermazione ha convinto poco chissà che queste ore sono cruciali per il destino del Nevegal tanto più dopo la giudicazione della gara per la gestione degli impianti che potrebbero tornare in mano pubblica l'assessore Franco Roccon è moderatamente ottimista un momento importante non c'è dubbio mettere assieme tutti questi tasselli non è stato facile non lo è tuttora non lo è neanche per le società private che sono una costituita nuova e l'altra che ha gestito questo importante momento di transizione dalla vecchia Alpe del Nevegal all'attuale la questione è semplice per aprire la stagione ci vogliono soldi e in questo momento la situazione economica della Nevegal 2021 non è florida per le manutenzioni servono denari e queste entrate pare fossero state promesse dagli algerini di Nevegal 365 che in questo momento stanno latitando e quindi la domanda di uno dei soci della 2021 è 3,65 investe o no sul Nevegal il comune dice Roccon fa la sua parte la sta facendo continuerà a farlo e ovviamente sperano i privati che guardino avanti più che guardare indietro sulle tensioni che hanno all'interno proprio interno tra i soci ma sono cose che riguardano la questione privata la parte pubblica sta facendo il suo dovere nell'aggiudicare definitivamente questa gara se è così se non sarà così ci verranno a dire ovviamente che intenzioni hanno anche nella gestione e nelle altre cose a fine settembre la volontà resa pubblica da Nevegal 365 di acquistare gli impianti da Nevegal 2021 a gara ancora aperta tendiamo a acquistare gli impianti dobbiamo ancora comunicarle le nostre intenzioni al comune però siccome il comune da questa se lo facciamo direttamente noi altri il comune risparmierà un mare di soldi e farà fatica a dirne di no era il 30 settembre e dall'ora ne è passata di acqua sotto i ponti e i contatti fra la 3,65 e la 20,21 pare si siano diradati io attendo anch'io notizie perché questo è l'aspetto importante per cui dovremmo chiuderla definitivamente con la firma di un contratto con l'accessione degli impianti a Palazzo Bembo fa tappa per dieci giorni la clinica oculistica lesita grazie alla fondazione del compianto Cavaliere Leonardo del Vecchio e di sei fra le più importanti associazioni di volontariato bellunesi obiettivo consentire anche ai fragili e a chi vive in condizioni di disagio la possibilità di godere del diritto di vedere bene ha dato un grandissimo aiuto e soprattutto ha dato la possibilità a delle persone che altrimenti non avrebbero accesso a questo tipo di visite e agli occhiali diciamo noi siamo qui per ringraziare a cuore aperto Massimo della Vecchia del coordinamento della rete immigrazione della provincia di Belluno che con il movimento Fraternità Landris San Vincenzo Insieme Si Può Società Nuova e Caritas Diocesana hanno selezionato i destinatari delle visite oculistiche gratuite degli occhiali da vista offerti da fondazione OneSight per garantire un diritto umano fondamentale a chi è svantaggiato seguendo i desideri del presidente fondatore Leonardo Del Vecchio la fondazione ha varato un programma globale di donazione di visite oculistiche e di occhiali da vista alle persone più fragili la concreta realizzazione della missione si realizza con le giornate della vista che quest'anno fanno tappa a Belluno a Palazzo Bembo fino al prossimo 24 novembre con l'obiettivo di visitare almeno 600 persone nell'arco di due settimane una rete solidale dedicata alla vista dei più fragili con la collaborazione degli ospedali di Belluno e di Campo San Piero in provincia di Padova queste giornate della vista credo siano delle iniziative estremamente importanti per il territorio per cercare di aiutare le persone che hanno bisogno sappiamo che la vista dei nostri organi di senso è il senso più importante e quindi dobbiamo averne molta cura i volontari Essilor Lussottica degli stabilimenti di Agordo Sedico Cencenighe e Pederoba parteciperanno all'attività con la donazione di un giorno di ferie a favore quindi di persone ipovedenti e non vedenti saremo la settimana prossima al palazzetto dello sport di Ponte nelle Alpi con la FISP che è la federazione italiana per gli sport paralimpici per i non vedenti dove portiamo il nostro programma Judo Academy volto appunto a favorire lo sviluppo dell'attività sportiva e quindi l'integrazione sociale anche a persone ipovedenti e non vedenti E questa era la nostra ultima notizia vi lascio alle previsioni del tempo grazie davvero per averci seguito buona serata Ben trovati al meteo non si prevedono grandi variazioni rispetto ai giorni scorsi è ancora l'alta pressione a dominare sul nostro territorio vediamo il dettaglio dunque di mercoledì 15 novembre sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da una mattinata con tantissime nuvole anche con cielo coperto su molte zone nel pomeriggio e lo vediamo dalla grafica il sole avrà sempre più spazio per splendere in cielo le temperature saranno stazionarie e tutto sommato gradevoli minime sui 4-7 gradi massime invece comprese tra 14 e 17 gradi all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia anche qui bel tempo con ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso temperature minime tra 6 e 12 gradi massime sui 14-17 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove avremo tanto sole e il cielo sarà sereno o al massimo velato temperature minime intorno ai 4 gradi massime infine sui 15-16 gradi all'incirca dal meteo di Antenna 3 è tutto arrivederci al prossimo aggiornamento entra nel mondo l'olato da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita centro del piede con servizi di podologia laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura dellarafia di promenacare con servizi con servizi pour l' dale